A proposito di prendersi delle responsabilità c'è una nota che ha messo su Facebook Isco della Catania, guardate che cosa ha scritto, ve la riassumo, dice in questo momento siamo da retrocessione, meritiamo l'ultimo posto in classifica, abbiamo giocato male, fino ad ora siamo stati noi solo a tratti e ci si è messa anche un po' la cattiva sorte, eccetera eccetera, continuiamo a lottare e alla fine tireremo le somme, dice Mariano Isco che è un bel modo per fare autocritica vera, sincera, spontanea, ma anche per promettere qualcosa di buono in futuro. Che cosa c'è da aspettare?